salve a tutti gli utenti oggi torno con la video presentazione di un prodotto che mi è stato regalato per il compleanno e che ho utilizzato tantissimo vi parlo di colistar attivi puri crema la vitamina c più acido ferulico ferulico diciamo di sì ecco qua come potete vedere dalla confezione è stato tanto tanto utilizzato tant'è che mi è quasi finito troverò il modo di riutilizzare la confezione in vetro che è bellissimo allora contiene vitamina c più acido ferulico è un attivo puro ci dice di utili applicare mattina e sera su viso e collo è una confezione da 50 millilitri testato dermatologicamente della colistar allora questo prodotto questo prodotto che cosa possiamo dire si assorbe non si assorbe proprio in poco tempo è un po grassoso nel senso se secondo me se uno già la pelle un po grassa forse è meglio metterne poca o comunque non lo so è abbastanza interessante come crema anche per la sua corposità vi faccio vedere un attimino perché è molto molto bella ma soprattutto profumata cioè c'è ecco quindi si vede anche se non messa poca c'è bisogna però è bella 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 vi lascia la pelle morbida un po lucida non la utilizzerei prima del trucco poi non lo so io parlo di trucco ad esempio teatrale trucco correttivo non lo so non sono esperto del campo ma non lo utilizzerei appunto sotto il trucco perché abbastanza corposa come crema magari può dare effetto lucido non so però è profumata la pelle subito sembra luminosa c'è da quella luminosità mi è stato regalato questo prodotto in una confezione regalo dove è incluso anche un siero è un altro attivo puro questo poi ve lo farò vedere in un altro video brevissimo video ecco qua insieme ad una pochettina una borsettina dove era dove era contenuto il prodotto è nulla io spero che vi sia piaciuta questa nuova video presentazione di prodotto e vi lascio alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti